La Fondazione Carifano guarda il futuro investendo nella comunicazione attraverso l'aggiornamento di un nuovo sito internet, la realizzazione del logo identificativo e l'approdo nei canali social. Il marchio è stato realizzato attraverso uno studio ben preciso, infatti sono stati inseriti gli archi, elementi distintivi e artistici della città fanese e un richiamo al vecchio logo, ovvero la presenza del cerchio arancione che identifica la comunità e le persone. Non potevamo rimanere indifferenti a quelli che sono oggi gli strumenti per comunicare in modo adeguato, quindi poi tra l'altro uno dei target che ci sta particolarmente a cuore è quello dei giovani e oggi questo passa attraverso anche per esempio i social network, quindi la fondazione partendo da una rivisitazione del logo, del sito per renderlo maggiormente fruibile e più ricco di informazioni da fornire. Passiamo anche attraverso l'utilizzo di social network e anche il nostro notiziario è un notiziario che è rivisto, riveduto e corretto per appunto adeguarlo al momento. Durante la conferenza è stato presentato anche il nuovo sito web totalmente rivisto sia nell'impostazione grafica che nei contenuti più semplici e intuitivi agli utenti. Diverse le sezioni e gli argomenti presenti, tutti suddivisi da una colorazione differente. Tra le novità anche uno spazio dedicato alla richiesta di utilizzo degli spazi gestiti dalla fondazione Carifano. Nel sito della fondazione c'è tutta una sezione dedicata intanto per chi ha necessità di chiedere degli spazi che sono spazi che vengono messi a disposizione delle associazioni per iniziative varie oppure c'è anche inoltre in aggiunta c'è anche uno spazio dedicato proprio alla condivisione di progetti e alla condivisione di attività che svolge la fondazione. Quindi chiunque potrà decidere di partecipare come nel caso per esempio del crowdfunding delle iniziative che la fondazione sta promuovendo in questo periodo oppure anche con delle donazioni perché la fondazione c'è e è a disposizione del territorio ma anche il territorio dovrà riconoscere l'attività della fondazione e magari contribuire anche e partecipare a delle iniziative che sono iniziative che vengono condivise con il territorio.